Tu sei il mio pastore, non manco di nulla, in pascoli erbosi mi fai riposare, in acque tranquille mi conduci? Voglio essere cattolico, sposo una tradizione millenaria. Dio è avanzato di suo, è già arrivato, è talmente completato che è stufo di sé, cioè, stufo no, un'esplosione di perfezione quando temi di... Solo i santi forse ci arrivano a capire queste cose. Non so se me lo so spiegate, c'è questa luce che ti accega, ma non nel senso, proprio per esprimere un... Sì, sì, c'è uno che... Che Dio ti dà quel calore che ti appaga, ti appaga sempre, ti appaga sempre, ma neanche infinitamente. Nello stare adesso e con questo concetto teologico-filosofico... Perché Dio è crea, è una creazione continua, ma è già completa di per sé. Però sarà sempre una ricerca, quando uno ricerca, quando uno ha la voglia, come il cane che sfiuta il tartufo, o fiuta questo video che secondo me... Però Dio esiste, è caruccio così, e bisogna crederci, punto e basta. Ecco, ho detto una cazzata.